E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Dopo la seconda iniziazione, l'insegnamento si eleva di un piano. L'iniziato impara a dominare il veicolo mentale, sviluppa la capacità di usare la materia del pensiero e impara le leggi della costruzione creativa dello stesso. Egli opera liberamente sui quattro sottopiani del piano mentale e, prima della terza iniziazione, deve essere, coscientemente o meno, completamente padrone dei quattro sottopiani inferiori nei tre piani dei tre mondi. La sua conoscenza del microcosmo diviene profonda ed egli è in gran misura teoricamente e praticamente padrone delle leggi della propria natura. Ciò che gli conferisce, sperimentalmente, la facoltà di dominare i quattro sottopiani inferiori dei piani fisico, astrale e mentale. Quest'ultimo fatto è interessante. Il dominio dei tre sottopiani superiori non è ancora completo e ciò spiega gli insuccessi e gli errori degli iniziati. Il loro dominio della materia dei tre sottopiani superiori non è ancora perfetta, eppure questi devono essere dominati. Alla terza iniziazione, talvolta detta trasfigurazione, l'intera personalità è inondata dalla luce che fluisce dall'alto. Solo da questo momento la monade guida l'ego in modo definitivo, riversando sempre maggiormente la sua vita divina nel canale preparato e purificato. Così come nella terza catena, quella lunare, l'ego individualizzò la personalità mediante il contatto diretto, metodo diverso dall'individualizzazione che avviene nell'attuale quarta catena. La legge di corrispondenza applicata qui può dimostrarsi molto rivelatrice e porre in evidenza un'interessante analogia fra i metodi di individualizzazione nelle varie catene e l'espansione di coscienza che avviene alle diverse iniziazioni. Di nuovo viene accordata una visione di ciò che verrà. L'iniziato può in qualsiasi momento riconoscere gli altri membri della grande loggia bianca e le sue facoltà psichiche sono stimolate dalla vivificazione dei centri della testa. Non è necessario né consigliabile sviluppare la chiaroveggenza e la chiarudienza prima di questa iniziazione. Meta di tutta l'evoluzione è il risveglio dell'intuizione spirituale. Quando ciò sia avvenuto, quando il corpo fisico sia puro, l'astrale stabile saldo e il mentale sotto dominio, l'iniziato potrà in tutta sicurezza esercitare ed usare saggiamente le facoltà psichiche per aiutare l'umanità. Non solo potrà usare queste facoltà, ma sarà in grado di creare e vivificare forme pensiero chiare e ben definite, pulsanti con lo spirito di servizio e non dominate dalla mente inferiore o dal desiderio. Queste forme di pensiero non saranno come quelle create dalle moltitudini sconnesse, slegate e discordi, ma raggiungeranno un buon grado di sintesi. È necessario un lavoro arduo e costante prima di giungere a tale risultato, ma quando la natura di desiderio è stata stabilizzata e purificata, il dominio del corpo mentale diventa più facile. Perciò, sotto certi aspetti, il sentiero del devoto è più facile di quello dell'uomo intellettuale, poiché ha imparato a purificare il desiderio e progredisce seguendo gli stati richiesti. Ora, la personalità ha vibrazioni molto elevate. La materia dei tre corpi è relativamente pura. La conoscenza del lavoro da compiere nel microcosmo e della sua partecipazione all'opera del macrocosmo è molto avanzata. Quindi è evidente perché solo alla terza iniziazione ufficia il grande Ierofante, il Signore del mondo. È il suo primo contatto con l'iniziato. Prima non sarebbe stato possibile. Per le prime due iniziazioni, Ierofante è il Cristo, l'istruttore del mondo, il primo fra molti fratelli, uno dei primi che conseguì l'iniziazione. Ma quando l'iniziato ha fatto un ulteriore progresso e ha conseguito due iniziazioni, avviene un cambiamento. La terza è amministrata dal Signore del mondo, l'antico dei giorni, l'ineffabile reggitore. Perché ciò è diventato possibile? Perché ora il corpo fisico, pienamente consacrato, può sostenere senza pericoli le vibrazioni degli altri due corpi quando tornano al loro rifugio dopo essere stati alla presenza del Re. Perché ora l'astrale purificato e il mentale dominato possono, senza alcun pericolo, stare al cospetto di quel Re. Quando, purificati e dominati, essi sono ben saldi e per la prima volta vibrano coscientemente in risposta al raggio della monade, la capacità di vedere e udire su tutti i piani può essere raccordata ed ottenuta, e la facoltà di leggere e comprendere gli annali usata in tutta sicurezza. Poiché alla maggiore conoscenza si accompagna maggior potere. Ora il cuore è sufficientemente puro e amorevole e l'intelletto abbastanza stabile per sostenere l'attenzione del conoscere. Prima della quarta iniziazione la preparazione viene intensificata e la conoscenza viene accumulata in modo inconcepibilmente rapido. L'iniziato ha frequente accesso alla biblioteca occulta e dopo questa iniziazione può mettersi in contatto solo con il maestro con il quale ha lavorato coscientemente per lungo tempo ma anche, in una certa misura, con i chohan, il bodhisattva e il manu e cooperare con loro. Egli deve inoltre conoscere intellettualmente le leggi dei tre piani inferiori ed usarle nello svolgimento del piano evolutivo. Studia i piani cosmici e deve conoscerli perfettamente. Diviene esperto nelle tecniche occulte e, se già non lo ha fatto, sviluppa la visione quadridimensionale. Impara a dirigere le attività dei deva costruttori e allo stesso tempo lavora continuamente allo sviluppo della propria natura spirituale. Coordina rapidamente il veicolo buddico e con ciò sviluppa il potere di sintesi dapprima in piccola misura e gradatamente sempre di più. Alla quarta iniziazione l'iniziato ha il perfetto dominio del quinto sottopiano ed è perciò adepto, per usare un'espressione tecnica, sui cinque sottopiani inferiori dei piani fisico, astrale e mentale ed è in procinto di dominare il sesto. Il suo veicolo buddico può operare sui due sottopiani inferiori del piano buddico. La vita dell'uomo, che consegue la quarta iniziazione o crocifissione, è di solito di grande sacrificio e sofferenza. È la vita in cui l'uomo fa la grande rinuncia ed anche esotericamente appare di strenua difficoltà, ardua e penosa. Sull'altare del sacrificio egli ha deposto tutto, perfino la personalità perfezionata ed è privo di tutto. A tutto si rinuncia, amici, denaro, reputazione, qualità personali, posizione nel mondo, famiglia, perfino alla vita stessa.